sportello reclami e questa volta mi permetto di introdurre con questa espressione una perla della città di arezzo e parliamo con roberto raffaella a proposito c'è anche un sito si è il gruppo di facebook intervallarezzo dove ho ricevuto queste segnalazioni e me ne sono fatta carico sportello arezzo e massimo d'accordo allora con roberto raffaella e massimo andiamo a parlare di questa perla la parola decoro roberto qui sotto mi pare che proprio non ci sta e non ci sta assolutamente qui c'è l'aspetto delle mattonelle che purtroppo ogni tanto si staccano i disegni dappertutto come vedete anche le luci sono assolutamente indecorose e soprattutto anche la velocità dei mezzi è eccessiva insomma c'è anche da rischiare oltre le mattonelle in testa anche che di essere tra voti massimo prima hai premuto dice cinque secondi quanto l'hai tenuto premuto prima tenuto premuto un minuto e se ero una persona che aveva dei problemi fisici di handicap sicuramente non sei riuscito a passare né dalle scale né dall'ascensore perché qui non risponde mai nessuno non è solo quando hai fatto la prova tu ora c'è anche la presa in giro di tenere premuto appunto c'è pure la ragnatela sopra insomma va bene continuiamo a scoprire così gli aspetti più spiacevoli diciamo di questo sottopasso via trasimeno andiamo l'ascensore che è dall'altra parte stessa pena cioè le persone con handicap noi passano dalla parte di saione né passano dalla parte del parco siamo saliti al piano di sopra andiamo ragazzi e signora raffaella allora non finiscono i problemi che abbiamo illustrato sotto roberto c'è questo aspetto della pompa che a volte non funziona quindi essendoci il problema dell'acqua a volte si allaga il sottopasso forse per quello che a suo tempo alzarono la pavimentazione perché l'acqua non diventasse troppo alta tal che qualcuno rischiasse ad affogare raffaella allora il mio problema è sempre stato quello di passare qui sotto con il passeggino perché non essendoci ascensori non essendoci una sede idonea per far passare il passeggino con i bambini sono dovuta passare dalla sede dei motorini con i rischi che ci sono e non è bello e ripeti il tuo sito non è un sito è un gruppo su facebook intervallarezzo intervallarezzo massimo la notte qui anche un problema fa parte delle condizioni degrado di saione in generale della parte dietro della strada che è stata fatta in pompa magna ma tutto il resto è stato abbandonato ci sono state diverse proteste da parte di persone ce l'hanno segnalato e quindi volevamo far presente a tutta la città questa cosa io credo che insomma di se andassimo a scavare le bottiglie giusto tante bottiglie là dietro naturalmente come dietro la ex standa l'uscita diciamo della stazione dalla parte di saione naturalmente saione è un quartiere abbandonato stavo per dire massimo che ne abbiamo sottolineati abbastanza di aspetti negativi ma non è finita qui roberto delle velocità dei motorini che c'è sì ci sono i 30 ma molto spesso vanno molto molto più forti perché si vede che a certi ragazzi in italiano gli piace smanicare come si dice vediamo un po' ecco qui siamo anche non lo so una come dire una sistemazione che io non saprei come definire ma non imporre ci pensano gli architetti gli ingegneri a fare queste cose quindi non mi pronuncio però ancora un'altra cosa la possiamo aggiungere roberto secondo me si potrebbe anche riaprire almeno una corsia al traffico veicolare con una limitazione in altezza e un'ottantina anche un metro e venti di marciapiedi per le persone in modo che tutto sarebbe più tranquillo e fruibile andiamo un attimo lì con il nostro giuliano che ci segue perché queste balaustre fanno venire certi pensierucci massimo beh questa è un'altra situazione di pericolo perché credo che dei bambini dei ragazzini che passano spesso di qui per andare anche a scuola potrebbero giocando o ci sono le ringhiere però potrebbe essere una una situazione nella quale potrebbero cadere io credo che questa non è che abbiamo esaurito l'argomento però sarebbe troppo lunga sportello reclami a solo cinque minuti ce n'è abbastanza comunque Alex ancora a te grazie